Nemo, profeta in padre, la modesta qualifica, solo nona posizione del pilota gentleman Michael Wright, subito complicato la quattro ore del Mugello, quinta prova del campionato europeo Endurance, per il team Golf Racing e lucchese Riccardo Pera, sceso in pista per il secondo stint, ma penalizzato da una Safety Car per un incidente avvenuto ad un'altra vettura. E qui, come sul dirsi casca l'asino per un errore commesso dalla direzione di gara, a tutte le vetture GT3 il direttore dava l'ordine di sdoppiarsi dalla stessa Safety Car, dimenticandosi letteralmente della numero 86 con a bordo Riccardo Pera, che alla ripartenza si è così ritrovato con un giro di ritardo e la gara rovinata. Dopo un'ora e mezzo, quindi la prova era praticamente finita per il team inglese, che si è dovuto accontentare dell'ottavo posto, che nonostante tutto significa guadagnare punti preziosi in ottica a campionato. Ora il team di Pera occupa la terza posizione nel campionato europeo, ha soli otto punti dai leaders, ovvero l'altra Ferrari 296 del team svizzero Kessel e l'Aston Martin ufficiale. Tutto è rimandato all'appuntamento di Portimao in Portogallo, in programma fra due settimane il 20 ottobre, e dove saranno in Lizza ancora ben cinque vetture a contendersi il titolo continentale.